Quando un giovane uomo bianco sposò un'anziana donna nera, tutti risero e li giudicarono, senza capire perché avesse fatto una cosa del genere. Ma due anni dopo, se ne pentirono. Mentre John e Zora scambiavano i voti noziali in quella piccola cappella, le poche persone intorno ridevano e sussurravano dietro le mani. Come aveva fatto quell'anziana donna nera a convincere un giovane così attraente a sposarla? Si chiedevano. Lei era 37 anni più grande di lui, eppure lui la guardava come se non avesse mai amato nessun'altra persona in tutta la sua vita. Sicuramente doveva averlo ingannato o promesso qualcosa in cambio di quell'anello nuziale e modesto. Ma ciò che quelle persone non sapevano era che la storia di John e Zora era iniziata diversi anni prima di quell'inusuale cerimonia, precisamente quando lui era appena un neonato. Vedete, Zora era stata la tata di John per quasi un decennio. Tutto era iniziato quando i genitori di John avevano assunto Zora per prendersi cura del loro figlio neonato. Con il suo tocco delicato e il sincero amore per i bambini, era diventata rapidamente una parte fondamentale della sua vita, fungendo da principale assistente quando i genitori non erano a casa. Giorno dopo giorno, Zora si dedicava con altruismo a garantire il benessere di John, occupandosi non solo dei suoi bisogni primari, ma anche stimolando la sua immaginazione con infiniti giochi e momenti di gioco. La sua paziente e tenera natura rendeva i momenti del bagno e la routine della nanna pieni di risate e comfort, forgiando un legame potente tra lei e John. Lo spirito amorevole e genuino di Zora per John la rendeva una presenza insostituibile nella sua vita. Ma come spesso accade, John entrò in una fase di sperimentazione dei limiti, affermando la sua indipendenza e opponendosi a coloro che amava di più. Nei suoi anni da bambino divenne sempre più difficile per Zora. Talvolta si comportava male e mostrava persino ostilità nei suoi confronti. Nonostante i suoi migliori sforzi nel cercare di stabilire discipline e confini, il suo comportamento continuò ad aggravarsi, lasciando i genitori in uno stato di smarrimento su come gestire la situazione. Dopo numerose discussioni e sincere riflessioni, i genitori di John presero a malincuore la difficile decisione di lasciare andare Zora, sperando che un nuovo inizio avrebbe aiutato il loro figlio a superare il suo comportamento ribelle e a ripristinare un senso di armonia nella famiglia. Ma mentre John cresceva e maturava, questa separazione lasciava un profondo vuoto nella sua vita. L'assenza della sua amata tata e confidente pesava molto sulla sua coscienza. Man mano che progrediva a scuola, John desiderava l'opportunità di ritrattare le sue azioni passate e fare ammenda con Zora. Non poteva fare a meno di provare un travolgente senso di rimorso per il suo comportamento ingiusto nei suoi confronti, poiché lei gli aveva sempre dimostrato amore e cure incondizionati. Nonostante fosse così giovane all'epoca, aveva numerosi ricordi vividi di lei. Con il passare dei giorni, il suo desiderio di ritrovare la sua amata tata cresceva sempre di più, poiché bramava a esprimere la sua gratitudine e scusarsi per la sua giovane ignoranza e superficialità. Dopo aver completato il college, John intraprese una determinata missione per rintracciare la sua vecchia tata Zora nella sua terra d'origine, l'Africa. Tra l'immensità del continente, le settimane si trasformarono in mesi mentre egli setacciava instancabilmente varie città, villaggi e zone rurali, non lasciando alcuna pietra inviolata nella sua ricerca del suo indirizzo. Con immensa devozione, cercò testimonianze e ricordi di Zora da parte dei membri della sua famiglia, raccogliendo con entusiasmo qualsiasi informazione che potesse avvicinarlo alla sua ubicazione. Dopo mesi di incessante ricerca, John riuscì finalmente a ottenere un indizio fondamentale, che lo avvicinò sempre di più al suo obiettivo. I suoi sforzi incrollabili ristrinsero l'ubicazione di Zora ad una casa specifica. Un debole faro di speranza in un mare di incertezza. Con il cuore che gli batteva forte, John si trovò in piedi, nervosamente, davanti alla sua porta, con la mente inondata da una potente miscela di anticipazione e ansia. Ogni secondo sembrava un'eternità, mentre si preparava finalmente ad affrontare la donna che aveva influenzato la sua vita in modi incommensurabili. Alzò la mano e picchiettò. Zora aprì la porta della sua piccola casa, e non appena i suoi occhi incontrarono quelli del giovane uomo che le stava davanti, un calore familiare li avvolse istantaneamente, riconoscendo subito il legame indescrivibile che né il tempo né la distanza avrebbero mai potuto diminuire. Sovrastati da un flusso di emozioni, non poterono fare a meno di ridere e piangere contemporaneamente. Si abbracciarono stretti. La sensazione del loro legame perduto da tempo riaffermava la loro convinzione nel potere del destino. Tra gli abbracci commossi, Zora iniziò a spiegare le circostanze straordinarie che l'avevano riportati in Africa, mentre John chiese scusa sinceramente, anche se non era necessario per come l'aveva trattata da bambino e per come aveva ottenuto il suo licenziamento. Gli occhi azzurri di John, luccicanti, con una nuova determinazione e sprazzi di speranza, parlavano della sua inalterabile convinzione che lui e Zora potessero, anzi, dovessero essere riuniti nell'accogliente abbraccio degli Stati Uniti. Con ogni fibra del suo essere, John comprendeva il peso della sua proposta. Riconosceva anche che lei desiderava non solo compagnia, ma anche un senso di appartenenza e il confortante calore di volti amici durante gli anni della sua maturità. Sapendo questo, egli continuò a insistere con ardore, alimentato dalla fervente convinzione che Zora appartenesse al suo fianco, che insieme dovessero intraprendere un viaggio condiviso verso l'amicizia, la compagnia e una vita permeata di scopi. Ottenere un visto sembrava un compito travolgente e complesso, con innumerevoli moduli da compilare, colloqui da affrontare e rigidi requisiti da soddisfare. Zora, sentendosi intimidita e in parte spaventata, aveva delle riserve riguardo a intraprendere quella strada. Tuttavia, la determinazione incrollabile di John e il sincero amore per la sua amata vecchia tata la spingevano avanti. Disperato nel cercare una soluzione, propose l'idea non convenzionale di un matrimonio di convenienza, un accordo legale che avrebbe permesso a Zora di rientrare legalmente negli Stati Uniti. Zora, consapevole del potenziale giudizio e scrutinio a cui sarebbero stati sottoposti come coppia non convenzionale, esitò, valutando le conseguenze. Tuttavia, John le fornì rassicurazioni e un sostegno instancabile, assicurandole che questa decisione non convenzionale fosse la scelta giusta, offrendole l'opportunità di ricostruire la sua vita in un ambiente familiare. Alla fine ha consentì e i due furono rapidamente uniti in matrimonio in una piccola cerimonia pochi giorni dopo. Non indossò nemmeno un abito da sposa, ma nessuno dei due se ne curava. Zora non vedeva l'ora di tornare in un paese che l'aveva accolta molti anni prima, e John era felicissimo di avere di nuovo al suo fianco la sua migliore amica d'infanzia. Finalmente tutto sembrava perfetto, ma al loro ritorno negli Stati Uniti, John e Zora dovessero affrontare una costante serie di commenti non richiesti e una continua derisione da parte di una società giudicante che spesso fatica ad accettare un amore che sfida le norme sociali. Nonostante la loro autentica felicità e profonda connessione divennero vittime di etichette ingiuste e di scrutinio. La gente etichettava vergognosamente Zora come una cacciatrice di culle, riducendo la loro relazione a uno stereotipo fuorviante, mentre altri mettevano apertamente in discussione la decisione di John di sposare una donna nera più anziana, mettendo in dubbio le sue motivazioni e alimentando pregiudizi ignoranti. Il giudizio severo e la costante attenzione iniziarono a pesare sulla salute mentale di John, erodendo la sua fiducia e gettandolo in momenti di dubbio e disperazione. Tuttavia, la forza di Zora e il suo affetto incrollabile per John prevalsero. In un atto di sfida verso la crudele società in cui si trovavano, decise di condividere il loro straordinario percorso su varie piattaforme di social media, tra cui Facebook e Instagram. Svelò i dettagli intimi del loro matrimonio di convenienza, spiegando come avesse assunto il ruolo ditata di John quando lui era più giovane e come agisse come un governante nella sua età adulta. Non c'era malizia dietro al loro matrimonio, solo il desiderio reciproco di aiutarsi e fiorire e prosperare. Mentre il post sincero di Zora si diffuse come un incendio su internet, i lettori provenienti da tutti i ceti sociali rimasero affascinati dalla loro incredibile storia di trionfo sul pregiudizio e sull'avversità. Le persone furono commosse dal loro impegno incrollabile l'uno verso l'altro e dalla forza che mostrarono di fronte a sfide così impegnative. Il post guadagnò rapidamente popolarità, con migliaia di commenti commossi che affluirono da individui che trovarono speranza e ispirazione nella loro storia straordinaria. Due anni dopo il loro matrimonio, Zora e John si amano ancora profondamente e hanno trovato un equilibrio che li aiuta a prosperare nella vita. Le persone che un tempo deridevano la loro unione ora rimpiangono le loro parole e sostengono apertamente la loro decisione reciproca di sposarsi per motivi che favoriscano entrambi. In un mondo in cui le coppie litigano e si separano ogni giorno, il loro matrimonio di convenienza sembra un rifugio sicuro e una mossa intelligente che li renderà felici fino alla fine dei loro giorni. Ora tocca a voi. Cosa ne pensate di questa incredibile storia? Come avreste reagito alla notizia di un matrimonio così insolito? Ditecelo nei commenti, come sempre ci piace sentire le vostre opinioni. Grazie per la visione e ci vediamo alla prossima.